Grazie al nostro incontro, anch'io ho potuto essere me stessa. Vorrei solo sentire ancora una volta quella canzone. A quanto pare questa ragazza ha salvato la vita i bichi. E quella chi è? Tu sai come si chiama? Uta. I bichi? Sei davvero strana. Dovrebbero abbandonare il parkour, è troppo rischioso. Il mondo fuori di qui è fin troppo soffocante per loro. Mi chiamano. Riesci a sentire il rumore del mare? Devo andare. Il tempo ha ripreso a scorrere. Io non sono mai riuscito ad arrivare lassù, ma tu ce la farai. Pronti? Partenza? Vira! È rischioso. Dobbiamo andarcene subito da togliere. Puoi morire per caso? An 게다가... Sei l'unico che possa parlare. Vira! Vhooo! Andiamo! Spoda! Rock and paper! Wow! Wow! Wow, wow! Wow! Wow, wow! Grazie a tutti